Mike Michele, abbiamo visite, il mio regista è arrivato adesso C'è pure quella gatta morta della sua assistente Che cosa fate lì? Venite pure su Esca me! Ah, interessante qui, caratteristico, realista Dal principio, no? Con la rapina alla banca, da dove vuoi cominciare? Io ho cominciato così Ma noi allora eravamo in due Sì, ma nel film si fanno sempre le... Calma! Cosa vuoi fare? Mandarmi a montare il film? Va bene, va bene, come non detto Il calzolaio lo faremo diventare una banca Lui non si era spiegato bene E la parte dello socio mio? Anche lui! Va a telefonare per i due specialisti I due? Ah, ok Senti, è chiaro che io non me la metto la calzanera in faccia Quando? Nella scena della rapina Ma tu non ci sei? Grazie a tutti!